Finisce 66-62 per Chieti contro Civitanova, partita difficilissima che Civitanova ha avuto il merito di riaprire nel finale dopo il più 13 dell'Europa ovini Chieti. 21 di Diemidigo, unico giocatore in doppia cifra e top scorer del match, l'analisi della gara con coach Piero Cohen. Piero, io direi per due motivi brava Chieti, perché ha dato continuità e perché non era facile mentalmente dopo l'euforia del derby con Pescara mantenere quel livello di concentrazione, al di là del problema di migliori che non era nei 12 oggi. Sì, ma indipendentemente dal discorso migliori, questa squadra oggi ha dimostrato di far fatica a recuperare energie mentali, energie nervose quando le partite sono ravvicinate. Questo è accaduto anche all'andata, quando io non c'ero, ma ero presente alla gara e oggi lo stesso si è avvertito questo calo di energie nervose. Noi dobbiamo assolutamente, visto che siamo gente giovane, avere quella forza, quella capacità di stringere i denti e dare sicuramente molto di più in certi frangenti. Ci sono state situazioni in cui abbiamo lasciato dei rimbalzi che potevamo almeno buttarci. Siamo stati distratti in alcune situazioni difensive, anche se poi alla fine il problema non è stato la difesa, visto che abbiamo subito 62 punti. Però complessivamente non c'era quell'energia, quell'attenzione e quella lucidità che avevamo avuto ultimamente. Un altro aspetto, oggi voglio tralasciare quelli tecnici, ma mentale secondo me molto importante, è come nella partita con Pescara nel finale la squadra avversaria vi sorpassa, avete trovato la forza per controsorpassare. Sì, no, questo è un aspetto molto importante, perché noi con queste sono tre partite che riusciamo a portare a casa giocandocele a punto a punto. Quindi questo è un aspetto da non sottovalutare. Quando cominciano ad essere più di una non è solo fortuna, ma significa che c'è qualcosa che abbiamo, che almeno in quei momenti lì riusciamo a tirar fuori. E quindi questo è molto positivo e hai colto un aspetto molto importante. Finisce dunque 66-62, nel finale l'ha risolta Edoardo Di Emidio con la precisione nel tiro da tre punti, 21 sul tabellino per il playmaker di coach Piero Coen, nel finale tanta tensione sportiva, doppio antisportivo a Pierini e Chieti porta a casa due punti fondamentali. Grazie.